Elezioni regionali in Campania. A pochi giorni dal voto facciamo il punto su tutti i candidati di Torre del Greco in corsa per il Consiglio regionale. Loredana Raia, consigliere uscente ricandidata col PD, in pieno supporto di Vincenzo De Luca, ultimamente ha ribadito il suo impegno nel solco di quanto fatto in cinque anni al Consiglio, particolarmente nell'ambito delle politiche e sociali in favore delle donne di tutta la campagna. Grande impegno anche per il potenziamento dell'ospedale Maresca. Il lancio di cantieri e turismo sono i punti focali della campagna elettorale di Claria Gorga, con campagna libera per il presidente uscente De Luca. Un'economia da rinnovare, snellendo le procedure in favore delle aziende, è l'idea supportata dall'ingegnere Monica Ascione, figlia di Alfonso Ascione e in corsa con Italia Viva. L'ex assessore della Giunta Palomba punta sull'occupazione giovanile e sul sistema universitario da riabilitare. Con De Luca, insieme a più campagne in Europa, Michele Langella, che ha più volte annunciato che, se eletto, dedicherà il suo costante lavoro ai cittadini di Torre del Greco per venire incontro alle esigenze più sentite dalla popolazione. Giovanna Romano, per democratici e progressisti, ha promesso il suo impegno per istruzione e sanità, puntando all'inserimento delle figure professionali del medico e dello psicologo in ogni scuola. L'avvocato Salvatore Piro, in lista con il partito repubblicano italiano, ha fornito una chiara idea del suo impegno una volta eletto. Il progetto è quello di utilizzare fondi europei per finanziare le due attività fondamentali per il nostro territorio, turismo e artigianato. Fra i candidati che supportano il presidente uscente, anche la professoressa Pina Di Donna incosta con il gruppo PER, persone e comunità, costituito da una rete di persone impegnate nel volontariato e nel sociale. Un progetto che vede l'impegno di professionisti di ogni settore per supportare famiglie ed imprese e facilitare l'accesso al mondo del lavoro. Valerio Ciavolino, candidato con Unione di Centro in supporto di Caldoro, porta avanti da mesi campagne per sensibilizzare i cittadini di Torre del Greco su tre questioni fondamentali, il potenziamento dell'ospedale Maresca, la necessità di investire sul turismo e la questione NU. Tra i giovani candidati per la città di Torre del Greco, Salvatore Altiero, con la lista Terra che appoggia Luca Saltamacchia come presidente. Al centro del progetto temi come la giustizia ambientale e sociale. La lista Terra nasce per dare voce alle comunità dei territori in lotta contro mafia e corruzione. Anche Clementina Sasso e Marco Manna, candidati con potere al popolo, si battono su sanità e istruzione. Uno dei loro interventi chiedeva proprio di garantire tamponi e controlli periodici e costanti al personale scolastico. Per Europa Verde Campania, Michele Lunella, candidato a sostegno di Vincenzo De Luca. L'impegno per l'ambiente, per il mare, per la legalità e per la giustizia sociale, sono al centro del suo progetto. Per il Centro Democratico, con impegno per il sociale, candida Mennella, a sostegno di Vincenzo De Luca, che con lo slogan Non promettere ma agire, porta avanti attività di ausilio alle categorie più fragili come anziani e giovani con criticità.